E allora possiamo lasciare il condizionatore acceso e dormire con la finestra aperta? Lo sai che cosa fa l'aria calda quando vede una finestra aperta? No! Si si infila! No, non sei surgelato, no! Sei nevrastenico, c'è una bella differenza! Eri nevrastenico quando sei rientrato, eri nevrastenico ieri e l'altro ieri. E' una settimana che qua non si dorme più! Sono le tre del mattino! Io sto soltanto cercando di darti dei consigli e non sono io la causa, non te la devi prendere con me! Non ho detto questo! E allora che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da chiunque? Aspetta, fammi capire che vuoi dire? Che qui dentro sono entrati dei ladri e ci hanno derubato così, all'improvviso! Sai che volevi? Una telefonata? Un telegramma? I ladri, me l'ho detto ladri, capito? Ladri, ladri! Ho capito? Non sei calma, sto facendo, io sto facendo delle domande per capire, certo? In questo palazzo, gli udici due, a cui si prepara il pranzo ducchi e giorni, siamo io e il neonato del secondo piano! E non me lo ricordo! Due anni non se ne parla proprio! Mi c'entra il canale di Suez! Ma se non puoi ridarti della mia stessa patria, di chi puoi ridarti allora? Io ero sedato, capisci? Sedato! No, non tranquillo! Sembravo mammolo, dei sette nani! Voi! Io, io non so che cosa dire! Dicci solo quanto ci costerà! Nel caso non ci vedessimo per altri nove anni, arrivederci! Non stai attenta mai! Non sei mai stata attenta in vita tua! E come no? Non è mica matto come quella donna? Ma in fondo, ha avuto soltanto l'esalimento nervoso! Ma sapesse quanto non vorrei esserci io in questo stabile, cara signora! Possiamo confidare l'uno nell'altro! Io non capisco come una grande azienda come quella possa semplicemente chiudere! Ehi, penso proprio questo di te, che sei un ragazzino, un bambino viziato, Ensemble Enfant! Ah, mancava l'Ensemble Enfant! Ah sì? A fare una tranquilla passeggiata nel parco! Tran...no! Tranquilla passeggiata? Io ero sedato, capisci? Sedato! Non tranquillo! Sembravo mammolo, dei sette nani!